Eccoci qui amici, stasera diretta veramente interessante, chiaramente partiamo dal testo insomma di nostro amico dottor Ruben De Luca, psicologo e criminologo e stasera, chiaramente il testo di riferimento ragazzi neanche a dirlo, è sempre serial killer per Newton Compton di Ruben De Luca, stasera ci occupiamo di due, veramente due pezzi da novanti, insomma, siamo andati in una finestra temporale molto ampia, Antonio Boggia e il cosiddetto il mostro di Milano e Donato Bilancia, il serial killer della Liguria, caso ormai insomma notissimo, credo tra i serial killer più prolifici nella storia criminologica italiana e quindi due vicende che hanno degli aspetti, nonostante la grande distanza temporale, hanno degli aspetti sicuramente molto diciamo molto simili, per certi versi insomma, per cui abbiamo voluto accumulare insomma questi, mettere insieme questo tipo di situazione, mettere in parallelo queste due vicende perché riteniamo che effettivamente possano essere spunti interessanti anche se si tratta di due storie molto lontane del tempo. E comincerei proprio, se per Ruben va bene, proprio con il più antico diciamo dei serial killer, peraltro se non ricordo male è stato l'ultimo ad essere giustiziato perché era ancora prima dell'introduzione del codice Zannardelli quindi lui è stato anche proprio condannato a morte insomma. Esattamente Roberta, nel 1862 è stato condannato a morte per impiccagione, neanche il re ha voluto commutargli la pena quindi anche se avevano fatto richiesta di grazia comunque è stata rifiutata ed è l'ultimo giustiziato in Italia perché poi ci sono state altre condanne a morte fino al 1889, ovvero l'introduzione del codice Zannardelli però sono state tutte commutate per cui ecco una delle particolarità di Antonio Boggia è proprio questa. Ecco queste due immagini che vediamo sono da un lato non c'era ancora la fotografia quindi chiaramente essendo un caso gli omicidi di Boggia iniziamo a inquadrarlo cronologicamente avvengono tra il 1848 e il 1860 per cui siamo prima dell'unità d'Italia quindi non c'era la fotografia non era diffusa c'era la ritrattistica e questa è l'immagine di Antonio Boggia appunto di un uomo distinto rispettabile vedremo ecco è interessante parlare di Antonio Boggia perché sicuramente anche se all'epoca non c'era il profiling non c'era il discorso dell'analisi della sulla psicopatia Antonio Boggia vediamo per le caratteristiche di come ha commesso gli omicidi sicuramente era un soggetto affetto da psicopatia ed era un soggetto estremamente scaltro estremamente manipolatore quella che vediamo invece accanto a destra è un altro ritratto del modus operandi di Antonio Boggia perché Antonio Boggia era un serial killer estremamente organizzato nonostante poi quando venne arrestato lui cercò di farsi passare per infermo di mente diceva ma la mia povera testa mi dice di fare le cose ma io non so nulla e tra l'altro non confessò tutti gli omicidi insieme ne confessò solo uno esatto sì perché era quello appunto dove le prove erano più schiaccianti e gli altri li confesserà in seguito soltanto quando verranno rinvenuti il cadavere però ecco la particolarità una delle particolarità di questo caso che sono tante le particolarità e che lui attirava le vittime nella sua cantina barra studio sita appunto in stretta bagnera che vedremo anche la via è molto importante perché tra l'altro ci sono delle leggende ci sono anche delle curiosità delle chicche molto interessanti che chi abita Milano può anche andare a verificare considerate che questa via che adesso ha la denominazione ufficiale di via bagnera fino al 1865 era appunto chiamata stretta bagnera perché si tratta della via più più stretta di Milano ancora oggi è una via vicino al Duomo che collega via Santa Marta via Nerino ed è una via talmente stretta che sia talmente stretta che non ci passano le carrozze e non ci passa non ci non ci possono passare nessun tipo di veicolo per cui era il luogo perfetto per il Boggia per avere il suo ufficio nella cantina dove lui attirava le vittime con la scusa di dover controllare dei documenti appena queste vittime gli voltavano le spalle lui brandiva una scure e vibrava un colpo in testa e le uccide e questo appunto che vediamo è un ritratto appunto di come era il modus operandi di Boggia perché Boggia a Milano all'epoca diventò un caso molto seguito e molto famoso proprio per alcune sue peculiarità Beh comunque è anche diciamo lui è poco prima di Verzeni la volta scorsa con i nostri amici abbiamo parlato proprio del caso di Vincenzo Verzeni lui in realtà è prima diciamo di Verzeni E' un serial killer italiano ma allora l'epoca ancora non dell'Italia Unita quindi è proprio un pioniere anche rispetto a questo tipo di delitti infatti ripeto lui venne proprio giustiziato perché all'epoca c'era ancora la legge marziale ragione per cui davanti a questo genere di situazioni si applicava il codice rispetto allo Zanardelli e che prevedeva appunto la pena di morte per i reati che lui ha commesso insomma però ha delle caratteristiche che lo rendono estremamente moderno proprio per la modalità di anche di esecuzione dell'omicidio della progettazione della manipolazione delle vittime precedente rispetto all'attirarle in trappola quindi è effettivamente un soggetto con caratteristiche particolari L'aspetto motivazionale secondo te che lo spingeva a uccidere principalmente qual era? Allora è un caso interessante perché intanto introduciamo parliamo di quello che è un serial killer per lucro quindi in questo caso il sesso non ha nessuna componente ecco anche perché l'associazione condonato bilancia che non c'è una vittima predefinita perché allora Antonio Boggia è stato condannato per quattro omicidi anche se poi non c'è alcuna certezza che non possa aver compiuto altri omicidi perché vedremo che le indagini all'epoca erano abbastanza Per seguire la nostra amica Nicole guarda in realtà non c'è nessun tipo di relazione la stragrande maggioranza dei serial killer non è psicotico sono abbastanza rari quelli che agiscono in preda a problematiche di tipo schizofrenico come ad esempio il vampiro di Sacramento Chase uccideva le vittime perché era convinto che il suo sangue si stesse trasformando in polvere e che l'unico modo per evitare questa sua morte terribile fosse quella di introdurre sangue umano per sostituire il suo che si sgretolava fondamentalmente si trasformava in polvere era una forma gravissima di schizofrenia paranoide che lo spingeva a questo ma normalmente la maggior parte dei casi insomma noti ed esaminati dal punto di vista psichiatrico di soggetti che hanno compreso bilancia che vedremo tra poco in realtà quasi tutti hanno un disturbo della personalità quello sì molto spesso o legato al disturbo antisociale o al disturbo narcisistico o a una miscela malevola tra i due risaliamo un po' al concetto di Robert Herr di psicopatia fondamentalmente che non è una componente che trovi nei manuali diagnostici nel DSM 5 non la trovi la psicopatia tra i disturbi mentali però indubbiamente se tu vai a vedere in qualche modo le definizioni che fornisce Robert Herr è un po' un mix della parte peggiore del narcisismo maligno e della parte peggiore del disturbo antisociale insomma no però sono quasi tutti cioè nella stragrande maggioranza dei casi soggetti che hanno comunque una capacità di intendere di voler completamente conservata nel caso di Chiatti che vedremo la prossima puntata che sarà mercoledì prossimo amici cambiamo giorno perché il dottor De Luca è impegnato giovedì quindi anticipiamo al mercoledì faremo proprio un parallelismo tra due diciamo due altri mostri se vogliamo tra questi ci sarà anche Luigi Chiatti e Luigi Chiatti venne periziato ve lo spiegheremo bene valutato come semi infermo di mente per un grave disturbo della personalità che però andava non a inficiare nella sua capacità di intendere in realtà perché quello che facesse fosse grave lo sapeva ma sull'aspetto delle pulsioni perché aveva un disturbo della personalità che andava proprio a interferire nel controllo delle pulsioni nonostante in realtà poi insomma è anche controversa questa valutazione perché quantomeno il primo dei due delitti quello di Simone Allegretti venne ampiamente insomma progettato per cui effettivamente insomma quando c'è per meditazione è un po' difficile che la componente psichiatrica possa essere rilevante però in questo caso poi lo vedremo meglio la prossima volta ci fu anche questo pronunciamento nel caso diciamo di questi soggetti che analizziamo stasera la componente psichiatrica diciamo conclamata psicotica non c'è perché sono tutti soggetti che agiscono in maniera molto lucida molto organizzata e lo fanno con dei tornaconti di tipo personale economico strumentale Sì infatti Antonio Boggia come donato bilancia non aveva una vittima d'elezione cioè non uccideva soltanto uomini o soltanto donne nel caso specifico di Boggia le quattro vittime sono tre uomini e una donna ma sono tre uomini semplicemente per un motivo di opportunità Boggia nasce nel 1899 a Urio non abbiamo vicino al lago di Como non abbiamo notizie particolari sulla sua infanzia sappiamo però che a 19 anni va a vivere a Milano e inizia a lavorare come muratore e carpentiere Da lì è un soggetto che appunto si arrangia piccoli lavori però già abbiamo dei precedenti criminali che risalgono al 1824 quando all'età di 25 anni riceve la prima condanna per per truffa Quindi anche qui è un elemento che lo accomuna a bilancia come vedremo Che torna spesso anche questo elemento del che questo tipo di soggetti spesso hanno soprattutto quelli che poi agiranno sulla scorta di un movente di matrice economica prevalentemente Torna molto spesso un passato diciamo un inizio della storia criminale come truffatori è una componente che devo dire Sì come come nel caso dei serial killer sessuali spesso iniziano con la violenza sessuale con creati come dico sempre se serial killer non è che si diventa dall'oggi all'indomani cioè non è che si nasce all'improvviso Molte volte è un percorso criminale e tant'è vero che poi un altro elemento che caratterizza Boggia e lo accomuna a bilancia è che inizia la carriera da serial killer tardi quindi nel 1849 il primo omicidio Quindi lui era del del 1799 quindi alla soglia dei 50 anni Nel 97 quando commette il primo omicidio della sua serie ha circa poi 50 anni 48 49 anni quindi Esatto Se in condizioni fisiche che ne dimostrano molti di più in realtà siamo intorno ai 50 anni insomma per cui è anche lì insomma la situazione Quindi praticamente Boggia nel 1834 prima condanna per truffa poi si perdono le tracce lo ritroviamo nel 1831 di nuovo a Milano che si è sposato a due figli dopodiché nelle cronache risulterà come vedovo senza sapere senza che si sappia come è morta la moglie Lo ritroviamo sempre che lavora come muratore carpentiere e inizia anche a diciamo proprio per la sua capacità di affabulazione e di manipolazione verbale A farsi affidare dei condomini da amministrare quindi diventa anche amministratore di condominio E praticamente è proprio questa sua attività che lo farà catturare perché nel 1860 Una vedova anziana Esther Perrocchio che gli aveva affidato l'amministrazione del condominio sparisce nel nulla Il figlio Giovanni Morier insospettito dall'assenza prolungata della madre si rivolgerà al giudice Crilelli chiedendo appunto lumi sulla sparizione della madre Lì per lì diciamo Boggia aveva costruito una storia di facciata molto valida Cioè disse al figlio che praticamente la madre si era trasferita a vivere sul lago di Como E gli aveva lasciato una procura per amministrare il condominio e tutti i suoi beni Diciamo che Boggia poi non è rimasto nell'immaginario collettivo come serial killer per lucro Famosissimo perché è stato soppiantato in seguito dalla fama di Landrou Il famoso Henri Desiree Landrou che è il corrispettivo francese di Boggia Solo che Landrou era specializzato nell'omicidio di anziane signore E il suo caso divenne talmente famoso a livello internazionale che praticamente poi Boggia Queste che vedete queste foto sono molto interessanti perché ci fanno capire com'era la stretta bagniera Cioè in alto vediamo com'è oggi la via e invece in basso a destra vediamo com'era la via all'epoca appunto degli omicidi di Boggia Aveva una forma L molto particolare per cui praticamente una volta entrati in quel cunicolo Praticamente nessuno ti vedeva più e ancora oggi questo lo dico per chi abita a Milano Che può diventare una curiosità potete andare a verificare se è vero Nelle tante leggende e nei tanti racconti dei fantasmi che abitano Milano C'è una storia molto molto stimolante che dice che appunto andando a camminare in questa via bagniera Anche nelle giornate di estate torrida dove fa più caldo Si sente un improvviso alito di vento ghiacciato E nel popolo di Milano c'è questa leggenda e praticamente si agirebbe il fantasma di Boggia Che alita sul collo delle persone Quindi è interessante andare a vedere per chi abita a Milano d'estate se è vero che si sente questo vento ghiacciato Quella che mostriamo adesso è l'arma proprio di Boggia insomma Che se non vado in rata porta proprio il suo nome Allora questa è un'altra storia molto ecco perché il caso è molto interessante Ci sono un sacco di chic e di curiosità Questa è la mannaia praticamente usata dal Boggia per i suoi omicidi Se vedete la targhetta c'è scritto ospedale maggiore Allora questa mannaia curiosamente è comparsa nel 2009 in un mercatino di antiquariato Ed è stata venduta come oggetto da collezione Ma la cosa molto curiosa è che non si sa come sia finita dall'ospedale maggiore Dove appunto era stata Era stata diciamo conservata l'arma Dove peraltro lavorava Cesare Lombroso Che esaminò anche il cranio di Boggia Quindi oltre a Verzeni Lombroso esaminò anche Boggia Per cui questa mannaia è comparsa nel mercato dell'antiquariato E curiosamente non si sa come sia successa questa cosa Tornando agli omicidi del Boggia Praticamente Aspetta adesso un attimo perché Martina pone una questione che è abbastanza delicata Allora Martina nella stragrande maggioranza dei casi è corretto quello che tu sostieni Ossia nel momento in cui uno uccide di solito sa quello che fa Lo vuole fare e lo fa perché ne trae un vantaggio Che può essere un vantaggio strumentale, economico o quant'altro O un vantaggio psicologico Cioè una persona che decido di eliminare Perché magari come succede spesso in tanti casi Come nei femminicidi Perché mi ha lasciato Perché mi ha umiliato e quant'altro Quindi c'è un movente assolutamente legato a quelli che sono i scenari principali La vendetta, l'essere stati traditi, lasciati Il badanio economico Quella parte lì è chiaro che non ci sono dubbi Che ci sia una piena capacità Di intendere e di volere E che il soggetto neanche La maggior parte delle volte in questi casi neanche viene periziato Perché si dà assolutamente per scontato Che vi sia una piena capacità E quindi una piena imputabilità Vi sono altri casi che sono una netta minoranza Ragazzi, badate bene Non è diffusa e non è frequente Che una perizia psichiatrica si concluda Riconoscendo un'infermità piena È abbastanza raro che un'indagine di questo tipo Io me ne ho occupato da più di vent'anni Possa giungere effettivamente A un pronunciamento di capacità scemata O esclusa addirittura Quindi di totale incapacità e infermità di mente Però qualche volta accade Ci sono stati dei casi che abbiamo affrontato Anche recentemente In cui il soggetto ha ucciso Una o più persone Perché La scelta di uccidere Era proprio una manifestazione della sua patologia Mi spiego meglio Facciamo un esempio abbastanza concreto Mattia Del Zotto ha Serminato buona parte della sua famiglia Avvelenandoli col solfato di taglio Il veleno Un caso di qualche anno fa Abbastanza recente Magari qualcuno di voi lo ricorda Ebbene Mattia Del Zotto aveva una forma di schizofrenia paranoide molto grave E si era convinto in maniera Purtroppo immodificabile In maniera delirante naturalmente Che i membri della sua famiglia Fossero dei soggetti impuri E che in qualche modo lo danneggiassero Era una persona che ad esempio Non permetteva che venisse utilizzato Il telecomando in sua presenza Perché sosteneva che gli cambiasse i pensieri Quindi era una forma di Di patologia psichiatrica Di tipo psicotico Una schizofrenia paranoide Che porta il soggetto a non leggere più la realtà Per come è Ma a convincersi che la realtà In realtà è un aspetto Diciamo Popolata di minacce Che in realtà esistono solo nella sua mente Ma non per questo sono meno vere Per lui O meno in qualche modo Meno ingombranti nella sua vita psichica Quindi quando c'è Un nesso di causalità Quindi quando il delitto È ascrivibile È riconducibile A una manifestazione di un sintomo Di una specifica patologia psichiatrica Riconosciuta Nei manuali di questo tipo Noi abbiamo Un punto di riferimento In questo tipo di valutazione Che facciamo Che è questo Ok DSM 5 È il principale Non è l'unico Ma è il principale manuale Delle malattie psichiatriche Dei disturbi mentali Dove c'è tutto Ci sono le disturbi personalità Ci sono tutte le forme di psicosi Ci sono tantissime Tantissime diciamo problematiche Quelle che sono In qualche modo diagnosticabili Le troviamo qui Questo è il manuale di riferimento principale Sia in ambito clinico Soprattutto in ambito forense Ci sono anche altri manuali Che sono con un taglio un po' diverso Ma diciamo che questo è quello che gode Della maggiore diffusione A livello internazionale A livello scientifico Ok Per cui Se esiste Un nesso di causalità Tra la patologia E il reato Cioè Il reato è In qualche modo Un sintomo della patologia Allora a quel punto La lettura della realtà del soggetto È completamente saltata Quindi Non è che Uccide perché ha un vantaggio Uccide perché la sua mente Lo porta a interpretare Quel soggetto La vittima Come un potenziale nemico E il soggetto si convince di questo Al punto che è immodificabile Quel tipo di convincimento Perché è di tipo psicotico Quindi in questi casi Martina La capacità di intendere Di volere Non c'è Perché Il soggetto Non legge la realtà Secondo quelli che sono i cannoni Considerati Diciamo Della sanità mentale E in quel caso Non può rispondere del reato Anche se l'ha commesso Perché l'ha commesso Sulla scorta Di un scenario Mentale Completamente deficitario Non so se così È più chiaro Il discorso Però Ripeto È molto raro Che ciò accada Perché in realtà Le persone affette Da disturbi di tipo psicotico Quindi quelli proprio Dove c'è l'esame Di realtà alterato Completamente È difficile Che arrivino a uccidere Paradossalmente Uccidono molto di più I cosiddetti sani Cioè soggetti Che non hanno Problematiche così gravi Magari hanno Dei tratti di personalità Disfunzionali O dei disturbi Della personalità Veri e propri Ma che conservano L'esame di realtà Integro Cioè non hanno Un'alterazione Della percezione Della realtà Né tantomeno La interpretano In maniera alterata Semplicemente uccidono Perché hanno Delle personalità Che li porta A fare quel tipo di A mettere in campo Quel tipo di scelta Ok Ma in maniera Assolutamente consapevole In questi casi Non c'entra niente Il discorso Della capacità Intendere di volere Perché si dà Per scontato Che lo siano Capaci Ok Quindi vengono processati E condannati Solitamente Giusto per darvi Un'indicazione Perché spesso Torna a questo tema Mi premeva Specificarvi che In realtà Ripeto è raro Ma ci sono soggetti Che purtroppo Arrivano a commettere Reati molto gravi Perché la loro mente Purtroppo non funziona Ma non funziona In maniera totale Veramente Purtroppo In maniera Tale Da non consentire A questo soggetto Una lettura Della realtà Adeguata E in questo caso È giusto Che non venga processato Perché ovviamente Non è in grado Di intendere Di volere Dall'altra parte Solitamente Come accade Con Delzotto E con tanti altri Come lui Viene valutata La sua pericolosità Psichiatrica Quindi quella che si chiama Pericolosità sociale Se il soggetto Viene Se la patologia Di cui soffre La stessa patologia Che lo rende Incapace Di intendere Di volere Può portarlo Nuovamente A reiterare Condotte Della medesima Fatto di specie Quindi a commettere Altri reati Vi è La cosiddetta Pericolosità sociale Quindi il soggetto Viene comunque Sottoposto a misura Di sicurezza E quindi inserito Adesso si chiamano REMS Presidenze per l'esecuzione Delle misure di sicurezza Quelle che prima Erano i manicomi Psichiatrico giudiziari O OPG Quindi non è che Non va in carcere Va in una struttura Che è comunque Una struttura Restrittiva Che però Consente anche La cura Di questi soggetti E viene valutato Ogni tot Anni Ogni due Tre anni Da una commissione Quindi a strattamento Una misura di sicurezza Può durare anche Molto di più Di una condanna Perché se la commissione Che esamina il soggetto Di volta in volta Non trova Che la pericolosità Sia cessata Come è successo con Chiatti La pericolosità Non è cessata E lui Nonostante abbia finito Di scontare i 30 anni di pena Ed è in REMS Perché venne ritenuto Pericoloso socialmente Se mi infermo però Quindi sta scontando Adesso la parte della REMS Quindi la misura di sicurezza E finché una commissione Non dice La sua pericolosità sociale È cessata Lui rimane in REMS E astrettamente Potrebbe rimanerci Anche per il resto Della sua vita Se non c'è una commissione Che si prende la responsabilità Di dire sì Può tornare in mezzo a noi Ok Va bene È giusto per Darvi delle indicazioni Un pochino più precise Su questi argomenti Ci tengo molto Perché sono argomenti Molto delicati Ok Scusami se ti ho interrotto Ma ho voluto Niente Figurati E comunque Anche Antonio Boggia È stato per un periodo Giudicato folle Perché all'epoca Si usava Questo termine Generico Generalista Folle Quindi senza specificare Appunto Non c'era il DSM Quindi si chiamava folle Nel 1851 Quando aggredì Giovanni Comi Che nelle sue intenzioni Doveva essere La sua Terza vittima Perché aveva già Commesso due omicidi Giovanni Comi Era un altro uomo Che aveva Un bel gruzzoletto Di 4000 svanziche La svanzica Era la moneta Austriaca In vigore In vigore all'epoca Che diciamo Corrispondeva A 0,87 Lire italiane E Boggia lo attirò Con i soliti Con le sue solite Manipolazioni verbali Nella sua cantina Di stretta baniera Non riuscì a ucciderlo Non riuscì a ucciderlo Per un motivo E questo è interessante Perché ci fa capire Come a volte Veramente il caso Ci mette lo zampino E quindi Anche se una vittima Sopravvive Non è perché L'assassino Non voglia uccidere Giovanni Comi Indossava un cappello Di feltro pesante E Contravvenendo Alle buone usanze Dell'epoca Non si tolse Il copricapo Quando entrò Nella cantina Per cui Quando Boggia Vibrò il colpo Con la scure Sulla testa Di Comi Il cappello Di feltro A tutti il colpo Comi riuscì a scappare Riuscì ad attirare L'attenzione Dei poliziotti E Eh Venne Boggia Venne arrestato E rinchiuso Nello stesso manicomio Eh In cui Per un periodo Soggiornò Anche Vincenzo Verzeni Questo è un altro elemento Che accomuna I due casi E Eh Venne ritenuto Folle Tant'è vero Che poi Nel 1860 Quando Boggia Verrà arrestato Per Eh Tutti gli omicidi E si scoprirà Che era un serial killer Anche se all'epoca Chiaramente Non si usava Questo termine Lui cercò Di Eh Riproporre La diagnosi Di follia E quindi Cercò di farsi Passare per pazzo Cosa che non gli riuscì Appunto Eh Proprio perché c'era stata Un'intensa pianificazione In ogni omicidio Dove lui aveva Spogliato Di tutti i beni Le vittime Prima di ucciderle Questo che vedete È il cranio Proprio di Antonio Boggia Che Eh Fino al 1949 È stato conservato Eh Nell'ospedale Eh Maggiore Ed è stato esaminato Da Cesare Lombroso Proprio alla ricerca Ecco Lombroso era Estremamente intrigato Dal caso di Antonio Boggia Per un motivo Molto semplice Che L'uomo Sembrava Non corrispondere Al suo stereotipo Di uomo Per l'ombroso È stato un problema Boggia sotto questo profilo Perché in effetti Non rientrava In quella che era La sua Non rientrava Anche perché Boggia in realtà Era Considerato Ecco perché L'avrebbe probabilmente Fatta franca Se il figlio Della perrocchio Non avesse denunciato La sparizione Della madre Perché era considerato Un bravissimo Cittadino Tra l'altro Andava in chiese In chiesa E tutte le domeniche Era un fervente Cattolico Non solo Eh Si adoperava Per organizzare Collette Per i poveri E raccoglieva Donazioni Ecco questo Tanto per dire Se i disegni Che vediamo Sul teschio Sono quelli Che fatti da l'ombroso Per fare la valutazione Dei crani Si si Esattamente Esattamente Perché lui poi Trovò Poi ci chiede Quanti amicidi Fece complessivamente Quattro Quattro Quelli accertati Quelli di cui Poi vennero trovati I cadaveri Che lui Seppelliva Utilizzando La sua esperienza Di muratore Carpentiere Proprio nelle pareti E nel pavimento Della cantina E quindi Vennero ritrovati I cadaveri E quando Vennero ritrovati I cadaveri Lui fu costretto A confessare Però continuava a dire C'ho dei mal di testa Non mi rendo conto Proprio perché Il suo La sua strategia Era cercare appunto Di farsi passare Per folle Come era stato Appunto Nel 1851 Cosa che però Non Non gli riusci Interessante L'ultima slide Se la Ecco Questa è la frase Allora Questa è la Via Bagnera Come oggi Quindi con le pareti Piene di graffiti Però vedete Comunque La curva L È una strada Veramente molto stretta Per chi soffre Di claustrofobia Fa Fa particolarmente Crea particolarmente Ansia Questa che vedete sopra Faminga il Boggia È una frase tipica Che è entrato Nel linguaggio gergale Milanese E che significa Appunto Non vuoi fare mica Fai mica come Boggia Per dire Disonesto Truffatore Cioè di una persona Che mostra Una faccia in pubblico E poi invece nel privato È tutt'altra cosa Quindi Faminga il Boggia È entrato proprio Nel lessico Comune Gergale Dei milanesi Proprio la riprova Di come questo caso Sia rimasto Comunque Dentro L'immaginario Collettivo Soprattutto Dei milanesi Questo sì Quanto meno Dal punto di vista locale Ci sono diverse domande Che riguardano il caso Di Anna Maria Franzoni Quindi piccolo Samuele Stasera staremo Un po' fuori tema Però vi prometto Che a breve Dedicherò una puntata Al caso Di Cogne Perché sicuramente Merita un po' Di approfondimenti C'è Velocemente Ti rispondo La Franzoni ha ucciso Molto e ferrato il figlio E è stata premiata Facendole fare un altro figlio No in realtà Quando rimase incinta Del terzo figlio Dopo la morte di Samuele Era ancora a piede libero Quindi in realtà Non c'entra niente Perché Il terzo figlio Nasce Che lei ancora Non è Diciamo Stata condannata In via definitiva Quindi non è che Gli hanno permesso Di fare un altro figlio L'ha fatto Perché è rimasta incinta Poco dopo La morte di Samuele Quindi questo Diciamo giusto per chiarire E non è che è stata premiata Nel senso che La pena è una pena Sicuramente rispetto Alla gravità del fatto 16 anni Che è diciamo La pena finale Confermata in Cassazione Obiettivamente Sembra una pena Molto lieve Rispetto alla gravità Del fatto Però Franzoni Venne sottoposta A perizia Anche in appello La perizia Venne Diciamo Disposta Dalla corte Assise D'appello Lei venne Condannata In primo grado A trent'anni Di reclusione All'epoca Chiaramente Poteva ancora Chiedere L'abbreviato E venne processata Con rinità Abbreviato Quindi in primo grado Venne ritenuta Pienamente capace Intendere di volere E condannata A trent'anni Dopodiché La corte Assise D'appello Di Torino Che la processò Per il processo Di secondo grado Dispose Una nuova perizia La affidò A un collegio Peritale Lei Non si sottopose Alla perizia Se si rifiutò Di collaborare Alla perizia E i periti Anziché Collaborare Quindi in qualche modo Cessare l'attività O quantomeno Basarsi su altre informazioni Cosa fecero? Decisero di comunque Proseguire il lavoro Peritale Però analizzando Le dichiarazioni Resi dalla Franzoni Nei vari momenti Dell'inchiesta E le sue interviste Televisive Che diciamo Un po' Dal punto di vista Metodologico Un po' Tirata per i capelli Questa scelta Perché se il periziando Non collabora Certo Se non collabora Tu quell'informazione La puoi utilizzare Nel senso che È chiaramente Un'indicazione È chiaro che Nel caso della Franzoni C'erano già Numerose informazioni Di aria Diciamo psicologico Psichiatrica Perché venne esaminata Anche nella fase Delle indagini preliminari Venne esaminata In maniera approfondita Da importanti professionisti Quindi c'erano Delle informazioni Che i periti usarono Però usarono Anche le interviste E le diciamo Le dichiarazioni Che lei aveva reso Durante l'inchiesta Nella fase preliminare E la ritennero Semi inferma di mente Perché secondo loro Era in una condizione Che si chiama Stato crepuscolare orientato Ossia Una condizione particolare Che Per essere Insomma Sintetici e semplici Assomiglia un po' Al sonnambulismo Come se avesse ucciso Samuele In una sorta di Stato alterato Di coscienza Ragion per cui Non conservava Un pieno ricordo Del fatto In realtà I giudici Di appello Non ritennero Diciamo Di considerare Questa perizia Nonostante Fossero i loro consulenti Ad aver Poi Concluso In questo modo Per una semi infermità Però che cosa fece La corte d'appello Di Torino La corte d'appello Di Torino Applicò Quindi non considerò La semi infermità Lei è stata condannata Come soggetto Pienamente imputabile Però a differenza Della Diciamo Del processo Del gruppo Del processo Di primo grado La corte d'assistenza D'appello Di Torino Valutò Come diciamo Bilanciate Attenuanti Aggravanti E quindi Questo consentì Di poter fare Una riduzione Significativa Della pena In virtù anche Della scelta Del rito abbreviato Che comportava Uno sconto Sensibile Di un terzo Andando poi A quantificare La pena finale Non più in 30 anni Ma in 16 anni E 6 mesi Che ha scontato Insomma Circa Nella metà Perché In parte Diciamo Della pena Venne scontato Con l'indulto E poi Ovviamente Voi sapete Che in carcere In realtà Un anno Non è un anno Reale Non è 365 giorni Perché c'è Uno sconto di pena Di 45 giorni Ogni 6 mesi Se il soggetto Collabora in carcere Non crea problemi Quindi praticamente A tutti Viene fatta Questa scontistica Quindi in realtà Su un anno Sono sostanzialmente Tre mesi Che non devi Conteggiare Quindi lei Alla fine In carcere È stata più o meno Tra i 7 E gli 8 anni Complessivamente Ed è stata poi Una parte della pena Ha potuto scontarla Perché il nostro ordinamento Lo prevede In casa Quindi ai domiciliari E qualche anno fa Ha proprio Terminato L'esecuzione Della pena Quindi la sua condanna È stata espiata E lei adesso È una donna Una donna libera Ma attenzione Non è che sia stata premiata Semplicemente Sono state scelte processuali Che hanno portato Poi a questo Conteggio finale Anche in virtù Della scelta del rito Che certamente Ha influenzato Notevolmente Poi il conteggio Della pena Che poi è stata Confermata in Cassazione Questo giusto per darvi Qualche breve Raguaglio Poi lo ripeto È un caso Che sicuramente Ha senso Affrontare in maniera Approfondita Lo faremo sicuramente Alla prima occasione Alla prima occasione Utile Ok Sì Allora Secondo quello Che giusto Per rispondere Della placebo Sì Questa è una circostanza Che risulta Agli atti Ossia Che non tanto Mentre proprio Il bambino Era stato caricato Nelle soccorse Portato all'ospedale Di Aosta Una persona presente Riferisce Che la Franzoni Chiese insomma In qualche modo Al marito Di fare un altro figlio Cosa che poi Effettivamente Avvenne Quindi sì È un dato Che risulta Anche agli atti Assolutamente sì Ok Andiamo Torniamo Andiamo All'altro serial killer Che dobbiamo Insomma Trattare questa sera E che è Diciamo Un killer Che invece Insomma Ne ha combinate Parecchie Qui parliamo Di un soggetto Che tra L'ottobre Del 1997 Il 15 ottobre 1997 E L'aprile Del 1900 Il 20 aprile Del 1998 Sostanzialmente Ha Ucciso 17 persone Ok Le vittime Sono abbastanza Variegate Questo lo rende Anche abbastanza Particolare Come soggetto Perché Comincia a uccidere Considerate che Bilancia È nato Il 10 luglio Del 1951 A Potenza Quindi fatevi I vostri conti Nel 97 Aveva 46 anni Anche se Sembrava molto più Vecchio in realtà Arriva a uccidere Tra insomma Tra i 47 e i 48 anni Fondamentalmente Quindi È una Una persona Che Insomma Esordie Fa un esordio Molto Molto tardivo Sotto questo profilo Nell'ambito Della sua attività Criminale Il primo omicidio Peraltro Verrà scoperto Per ultimo Cioè Il primo omicidio Quello di Giorgio Centanaro Che insieme a Maurizio Parenti Che sarà poi Oggetto del secondo omicidio Al 24 ottobre 1997 Gestivano Diciamo Un giro di Bischie Nelle colline Genovesi In realtà All'inizio Si era pensato Che Centanaro Fosse morto Di morte naturale Tant'è che viene trovato In casa sua Insomma La causa di morte Stabilita dal medico legale All'epoca fu sostanzialmente Un arresto Cardiocircolatorio Dopo la cattura Quindi parliamo Del Aprile Del 1998 6 mesi dopo Perché lui uccide 17 persone Sostanzialmente In poco più di 6 mesi E Lui stesso dirà Che in realtà Giorgio Centanaro L'ha ammazzato lui Anche se Poi Effettivamente Riscontri effettivi Che davvero Le cose siano andate Come dice lui Qualche Insomma Questo aspetto Qualche dubbio c'era Tant'è che si riteneva Che effettivamente Lui Volesse uccidere Centanaro Così come poi Ha ucciso Maurizio Parenti Che con Centanaro Lui dice che L'avevano umiliato Durante una serata In una di queste bische Sostenendo che Si erano messi d'accordo Per metterlo in mezzo E quindi Per ispirare di denaro Perché lui era Un ludopatico Fondamentalmente Era proprio Dipendente Dal gioco d'azzardo E quindi Bassicava gli ambienti Chiaramente del gioco d'azzardo Genovese Dell'epoca Che erano limitrofi Peraltro alla criminalità organizzata Come spesso accade Lui diceva Appunto Raccontò Una volta catturato Che Centanaro Con Maurizio Parenti L'avevano messo in mezzo E questa cosa Lo fece arrabbiare Terribilmente Ragion per cui Si sentì umiliato E decise di vendicarsi Probabilmente Io conservo un dubbio Sul primo omicidio Cioè su Centanaro Perché lui Se lo attribuisce Mi direte voi Tanto comunque Si è stato condannato A 13 ergastoli Uno più uno meno Non è che cambia molto Ai fini diciamo Perché lui poi Ha raccontato Tutta la vicenda Cioè lui ha confessato Tutti i delitti E ha fornito Anche dei riscontri Abbastanza coerenti Rispetto a questo L'unico caso In cui effettivamente Non c'erano riscontri È proprio Centanaro Che lui si attribuisce Comunque Quindi di fatto Poi venne conteggiato E fine della pena Diciamo Detentiva Che gli è stata inflitta Appunto di 13 ergastoli Dopodiché Il 24 di ottobre Il 97 Uccide Maurizio Parenti In casa sua Insieme alla moglie Carla Scotto Che ovviamente Era una vittima Inconsapevole Di tutto Ma purtroppo Ci è rimasta anche lei E in quel caso Rapina anche Parenti Di una serie Di orologi preziosi Che aveva Aveva a casa Poi uccide La coppia Gli anziani Coniugi Bruno Solari E Maria Pitto Entrambi orefici Che diciamo All'epoca avevano Si pensava Potessero essere legati Al mondo della ricettazione Nell'ambito insomma Della Genova Bene E ha uccisi entrambi Anche qui sostanzialmente Peraltro l'aggressione Era avvenuta proprio Nel tardo pomeriggio All'interno dell'abitazione Della coppia Poi uccide Il primo cambio a valute Il primo cambio a valute A 20 miglia Il 13 novembre del 97 Uccide Luciano Marro E lì fa una rapina Chiaramente Perché gli servono soldi Lui era Ovviamente Un soggetto che non aveva Un lavoro stabile Da tantissimi anni Viveva in maniera Faceva Aveva fatto rappresentante Di biancheria intima Ha fatto una serie di lavori Ma mai nessuno L'aveva portato in qualche modo Ad avere una sua indipendenza economica Quindi Insomma Commetteva anche Questo tipo di fatti In quel momento Aveva bisogno di soldi Per questo tipo di situazione Poi il 25 gennaio del 98 Uccide il metronotte Gian Giorgio Canu Durante In uno dei palazzi Su cui questo Questo Canu Faceva la Vigilanza E qui Diciamo Non è chiarissimo Anche qua Su questo omicidio Non è che lui fornisca informazioni precisissime Ma sembra che ce l'avesse con Canu Per questioni personali Quindi lo va a cercare Ormai in questa orgia omicidiaria Decisamente compulsiva Come se non potesse più smettere di uccidere Il 15 marzo Uccide la prima prostituta Quindi Stella Truia 25 anni Di origine albanese E L'omicidio delle prostitute È un omicidio che avviene Con modalità estremamente Pratiche Rapide Sono tutte esecuzioni Non ci sono contatti sessuali Con queste vittime Sono tutti Lui le sceglie Peraltro le sceglie Tutte di etnie diverse E in luoghi diversi Della Diciamo Della Riviera Ligure Perché l'obiettivo era quello Di inscenare In qualche modo Cioè di depistare le indagini Inscenando una sorta di guerra Tra bande rivali Per la prostituzione locale Il 18 marzo Quindi tre giorni dopo Del 98 Uccide Mila Zuzkova Prostituta di origini ucraine Il 24 marzo Vuole uccidere Il transessuale Lorena Castro Però Non ci riesce Perché Si appartano in una villa Alla Barbellotta Vicino a Novi Ligure Dove lui dice Di avere Le chiavi Si appartano All'interno del parco Di questa bellissima villa Che però Era diciamo Protetta dalla vigilanza privata Quindi Che succede Lui in realtà Vuole uccidere Lorena Castro Ma non ce la fa Perché nel frattempo Arrivano questi due Guardi giurate E I loro due Sì Purtroppo moriranno Durante questo Conflitto a fuoco E Lui è convinto Di aver ucciso Anche Lorena Castro Ma in realtà Lorena Castro Si finge morta Perché è una ferita Comunque importante Ma non mortale E Quando poi verrà scoperto Insomma Il duplice omicidio Dei due metronotte E il ferimento Di Lorena Castro La stessa Una volta ripresa Si racconterà E fornirà Questo identikit Che vedete Quindi questo qui Che vi sto mostrando E soprattutto Descriverà La famosa Mercedes Nera Che lui Utilizzava Per queste sue Incursioni criminali Mercedes Nera Che è un punto centrale Tra poco ci torniamo Perché una Mercedes Nera Che aveva venduto Un suo diciamo Conoscente Giuseppe Monello De Topino Che poi sarà una figura Determinante Per arrivare alla Cattura di bilancia Perché dopo che vennero Rese note le informazioni E l'identikit A cui aveva Insomma Contribuito Lorena Castro L'unica sopravvissuta Della strage Diciamo Della serie di delitti Di bilancia Lui aveva E soprattutto aveva Descritto l'automobile Che aveva in uso Lui confrontando L'identikit Che nel frattempo Chiaramente compariva Su tutti i giornali Piemonte Liguria Insomma un po' Di tutta Italia Fondamentalmente Ma in particolare Quelli che Interessati localmente Dalla situazione Lui aveva Riconosciuto bilancia In questo soggetto E chiaramente Uno più uno L'aveva fatto come Quando Si era reso conto Che la macchina Utilizzata dal soggetto Era sostanzialmente Identica a quella Che lui aveva venduto A bilancia Che peraltro Non aveva neanche pagato In maniera integrale E proprio Poco dopo Insomma Alla fine di marzo Pino Monello Viene contattato Da bilancia Che gli dice Guarda la macchina tua Non mi piace più Non la voglio più Riprenditela Lui lì capisce Che effettivamente I suoi sospetti Sono fondati Che davvero Probabilmente bilancia Coinvolto E a quel punto Andrà lui Dalla polizia A dire Guardate che io Ho venduto una macchina A questo soggetto Che ha le caratteristiche Che avete descritto voi E che verosimilmente È la stessa persona Che state cercando E quello sarà poi Determinante Per arrivare A trovare Insomma E a catturare Donato bilancia Il 29 marzo Uccide un'altra prostituta Stavolta di origini nigeriane Tessi Adobo Poi Il 3 aprile Rapina manarmata Ai danni Di Un'altra Diciamo Un'altra Prostituta Che però Non viene uccisa Di 47 anni Che effettivamente Di solito Questa qui Diceveva la clientela Nel suo appartamento E sopravvive Anche qui Un aspetto centrale Perché non la ferisce neanche E sembra che L'elemento Che l'abbia portato Ad esistere Dall'intenzione Di uccidere questa donna Fosse stata la figlia Sì scusate La foto Del figlioletto Che lei aveva Sul mobile Diciamo Dell'appartamento E proprio Invocando Insomma La figura di questo bambino Che senza di lei Sarebbe rimasto solo Pare che lui Insomma Si sia fermato Lui ha una storia particolare Il fratello di bilancia Molti anni prima Si era gettato Sotto il treno Insieme al nipote Davide Per Perché In seguito Alla separazione Dalla compagna Dalla moglie Questa separazione L'aveva Fortemente provato A livello Chiaramente emotivo E purtroppo Si era suicidato Portando con sé Il nipotino Insomma Il figlioletto Nipote di bilancia Il 12 aprile 98 Uccide In treno La prima donna L'infermiera Elisabetta Zoppetti Lui praticamente La uccide A bordo Dell'Intercity Genova-Venezia Intorno Alle 14 14 e 30 Circa Del 12 di aprile Del 98 Perché lui era andato a giocare Aveva perso Una Era andato a giocare Al casino Aveva perso Una ingente Somma Di denaro Era entrato sul treno Così la racconta E aveva voglia Di fare male Di fare male a qualcuno Nella Nello scompartimento Di prima classe Aveva visto questa donna Tranquilla Che stava lì Ed era da sola Lui si è messo In un altro scompartimento Ha aspettato Che lei andasse In bagno Aveva con sé Una di quelle chiavi Che all'epoca Si potevano utilizzare Per sbloccare Le porte del treno E Entrato Nel bagno Dove La Zoppetti Si era Infilata Era andata Per le sue questioni E l'aveva uccisa Con un colpo D'arma da fuoco Dopodiché Era sceso Alla stazione successiva Nessuno si era accorto Di nulla E La cosa era rimasta lì Lui utilizzava Una Smith & Wesson Calibro 38 Per i suoi omicidi Con munizionamento All'apopatria Quindi La pistola Aveva firmato Tutti i delitti La cosa più Se vogliamo sconvolgente Che All'epoca A Genova L'istituto di medicina legale C'era un balistico Che si chiamava Cavenago Che già Diciamo A gennaio Quindi dopo l'omicidio Di Gian Giorgio Canu Aveva ampiamente indicato Che tutti gli omicidi Precedenti Quindi Eh Luciano Marro La coppia di coniugi Pito Solari Parenti E la moglie Carla Scotto Erano stati uccisi Dalla stessa arma Però La cosa Non era Diciamo Stata attenzionata In maniera particolare Cioè Non è che se lo fossero filato Molto In queste sue Considerazioni Diciamo che Dopo Un po' Arrivano effettivamente A capire che Quello che diceva Il balistico Poteva essere effettivamente Purtroppo la verità Ossia che c'era un seriale In azione Però ci è voluto un po' Non è stata una cosa Che immediatamente è emersa Dopodiché arriviamo Al 12 aprile Scusate Una donna sui treni Questa volta Tocca all'infermiera Golf e babysitter Mariangela Rubino 32 anni Che viene assassinata Sul diretto Genova Ventiviglia Intorno alle 23 Appunto Del 18 aprile Anche qui La stessa cosa Però qui Succede una cosa interessante Perché a differenza Degli omicidi precedenti In questo caso Dopo aver ucciso Mariangela Rubino Sostanzialmente Con le stesse modalità Adoperate Con Elisabetta Zuppetti Quindi aspetta che vada in bagno Apre la porta del bagno Le spara Dopo averle sparato Si masturba Sulla vittima E lascia Il suo DNA Perché chiaramente Il liquido seminale Resterà all'interno Diciamo Del bagno del treno E sugli indumenti Della vittima E verrà campionato Poi verrà estratto Il suo DNA Il 20 aprile 1998 Commette l'ultimo Omicidio Per rapina Stavolta Ai danni Del benzinaio Di armadittaggia Giuseppe Mileto A quel punto lì Per lui non ha più La Mercedes Perché nel frattempo L'aveva ridata A Pino Monello Aveva una Se non ricordo male Una Punto Blu Che utilizzava appunto In questo tipo Di incursioni criminali Non c'era più La Mercedes Quindi lui sostanzialmente Fornisce una versione Molto articolata Di tutti Di tutti i delitti Fondamentalmente E sono tutti i delitti Però caratterizzati Da Una spinta motivazionale Diciamo Mista Perché Alcuni delitti Vengono commessi Sulla scorta Di uno scenario Motivazionale Personale Perché lui ce l'ha A morte Con Maurizio Parenti E Giorgio Centanaro E considerando anche Centanaro Effettivamente Uno degli omicidi Della serie Quindi diamo per buono A quella che è La ricostruzione Poi accreditata Dalle sentenze E lui con loro C'è la propria morte Perché si sente umiliato Considerate che è stato Periziato È stato sottoposto A perizia psichiatrica Gli è stato riconosciuto Un disturbo di personalità Narcisistico Quindi era caratterizzato Da una forte immaturità Problematiche Legate alla sfera sessuale E appunto Caratteristiche tipiche Quindi scarsa empatia Una vita comunque passata Borderline Nel senso che Era un soggetto Che insomma È sempre stato Molto avvezzo A condotte illecite Già da minorenne Fondamentalmente Gravitava intorno Al mondo Della microcriminalità Nell'esordio delinquenziale Era avvenuto nel 71 Quando ruba un furgone Carico di panettoni Che tende poi Di rivendere Davanti a un supermercato E ovviamente Viene segnalato Arrestato Nel 74 Viene nuovamente Arrestato a Como Per detenzione abusiva Di armi da fuoco E viene condannato Nel 76 Tenta di fuggire In pigiama Mentre è ricoverato E piantonato Nel reparto psichiatrico Dall'ospedale San Martino Di Genova Viene ripreso subito dopo E finisce Di scontare Poi in carcere La condanna A 18 mesi Per una rapina impropria Nel 78 Viene arrestato Nuovamente in Francia Insieme a un complice In seguito A una serie di furti Ai danni di diversi Studi dentistici Quindi vedete Che la matrice criminale Lui chiaramente L'ha sempre praticata Viene condannato A due anni E sei mesi Viene poi rilasciato Prima dello scadere Del termine Per buona condotta Quindi anche qui In carcere Sono soggetti Che poi Si adeguano Alle regole carcerarie Quindi Non hanno grosse difficoltà Diciamo A rispettare le regole Se sono costretti Nell'81 Viene nuovamente arrestato Insieme a due complici Per rapina e sequestro Di persone I danni Di una coppia Di coniugi Che vivevano Nella parte Della Della genovese Viene condannato A due anni E quattro mesi Finisce di scontare La pena Nel gennaio Dell'84 Nell'85 Viene nuovamente Denunciato Per problematiche Legate al gioco d'azzardo L'11 novembre dell'87 Il fratello Michele Bilancia Muore suicida Gettandosi sotto un treno A Genova Pelli Nella stazione In Genova Pelli Purtroppo portando con sé Appunto Il figlioletto Davide Di quattro anni Nel Lui Su questo aspetto qua Racconta proprio Che questa è una sorta Di spartiacco Nella sua vita Cioè la morte del fratello Con il nipotino A cui lui dice Di essere stato legatissimo Ha commesso una rapina Sostanzialmente Con mezzi impropri Quindi non era Diciamo Una rapina Così come il codice La prevede Ma aveva cercato Cioè Aveva cercato Di sottrarre dei beni In maniera chiaramente Impropria Per cui la contestazione Era quella di rapina impropria Dopodiché Nel 90 Viene denunciato Quindi Da lì succede qualcosa C'è una sorta di Click interiore Che fa peggiorare Le sue condizioni mentali Già comunque Non particolarmente Diciamo Stabili Nel 90 Viene denunciata Una prostituta Per atti di libidine Violenta E sequestro di persona Quindi questa Anche questa lettura Di dominio e potere Sulla donna Torna spesso E quello che poi Succederà con le Prostitute Che lui uccide Durante la serie Criminale In realtà Ristituisce questo Cioè il potere Sulla donna Perché in realtà Non sono omicidi Commessi per rapina Non porta via niente A queste ragazze Sostanzialmente Ma è proprio la soddisfazione Di vederle in ginocchio Davanti a lui Completamente Esposte al suo potere Che lo nutre Sotto questo profilo Nel 94 Viene denunciato Per reiterate Molestie sessuali Da una delle commesse Del negozio Di intimo femminile Che aveva gestito Per un po' a Genova Nel 96 La sua presenza Viene registrata E questo è un aspetto Molto interessante Durante le udienze Che erano in corte D'assise Del maxiprocesso Che all'epoca Viene celebrato a Genova Per un noto clan Mafioso Presente sul territorio genovese Il 15 ottobre Del 1997 Inizia La serie di delitti Che poi si concluderà Appunto nell'aprile Dell'anno successivo Negli ultimi sei mesi Che hanno preceduto La data dell'arresto Quindi Che sono concomitanti Ai mesi In cui si sono verificati Gli omicidi Dalla Diciamo Dalla somma delle registrazioni Al casino di Sanremo Se a Venza Risultano poco più Di un centinaio Di passaggi E di presenze Di quest'uomo Quindi quando non uccideva Praticamente stava Al casino Questo per darvi Delle indicazioni Insomma precise Su quelli che sono stati Un po' I passaggi principali Nella vita di questo soggetto Quando è stato arrestato Ha reso Una piena testimonianza Peraltro raccontò Proprio in merito All'arresto Che ormai lui aveva capito Che gli stavano coltato sul collo Diciamo che ormai Insomma aveva Compreso che era questione Di giorni L'avrebbero catturato Tant'è vero Che lui aveva un appartamento A San Pierdarena Diciamo un quartiere Di Genova E in questo appartamento Molto piccolo C'era una specie Di divanetto E lui Teneva la pistola Coperta Da un plaid Da una copertina Sostanzialmente Sulla spalliera Di questo divano Convinto Che sarebbero andati A prenderlo a casa E che lui A quel punto Avrebbe aperto il fuoco Nei confronti Delle forze di polizia Sperando di venire ucciso Nel conflitto a fuoco Questo era il suo piano Diciamo finale Quello di Innescare uno sparatorio Un conflitto a fuoco Con le forze di polizia Che nel frattempo L'avrebbero certamente Trovato di lì a fuoco E a quel punto Avrebbe Diciamo Scelto di morire A prendo il fuoco Nei confronti della polizia Non ne ha avuto il tempo Perché nel frattempo Si ammala Abbastanza seriamente E di conseguenza Ha bisogno di fare Una serie di terapie Nel frattempo Viene identificato Grazie All'intervento Di Che vi dicevo Di Pino Monello Che dice Guardate che sicuramente È questo tizio qua E gli dà Tutta una serie di informazioni È stato determinante Pino Monello Nell'arresto Di bilancia E quindi Loro cominciano A tenerlo sotto sorveglianza Prima diciamo Quindi Quando lo vedono Entrare all'ospedale Capiscono che non è armato Eseguono l'arresto All'uscita dall'ospedale Sostanzialmente Quindi non ha il modo Di concludere La sua vicenda Così come in realtà Sperava fondamentalmente Lui Diciamo che Dal punto di vista introspettivo Per ogni omicidio Dà delle valutazioni Ti leggo la confessione Per esempio Che fa In relazione Ad esempio All'omicidio Della Ad esempio Della Zubscova O di Stella Truia La prima Di Gian Giorgio Cano Dice questo Lo conoscevo Come tutti i metronotti Non mi stava molto simpatico In passato Bilancia era stato sorpreso In flagranza di reato Proprio da Un metronotti Aveva passato parecchi guai L'ho sorpreso Mentre stava facendo Il suo giro In un palazzo Di via Armellini A Genova Gli ho sparato Con la mia pistola Nessuno ha visto niente Ne ero praticamente sicuro Per quanto riguarda Stella Truia Dice L'ho fatta salire in macchina Prelevando la Genova In zona foce L'avevo offerto Una grossa somma di denaro Per un rapporto in casa Poi l'ho portata In una località isolata Sulle alture di Barazze Che avevo scelto E per l'ustrato prima Quindi tutta la parte Di pianificazione Di organizzazione C'è anche qui Assolutamente In maniera abbastanza Precisa Quasi sempre Alcuni omicidi Sono più di tipo compulsivo Cioè quelli alla fine Della serie Le due donne sul treno Sono effettivamente segno Che la sua mente Sta sgretolando Si sta sgretolando Sta scivolando Verso una progressiva Disorganizzazione Rispetto a quella iniziale Come spesso può accadere L'ho fatta spogliare Completamente nuda Subito dopo L'ho fatta scendere Dalla macchina Lei non voleva Così l'ho presa per i capelli E l'ho trascinata fuori io Subito dopo L'ho fatta inginocchiare Vedete il potere Nei confronti di queste donne Che tutta la vita In qualche modo L'hanno dominato Comunque lui si sentiva Profondamente inadeguato Nei confronti Delle figure femminili Perché aveva insomma Subito un po' di Problematiche Durante l'infanzia Il padre lo dileggiava Lo prendeva in giro Per le dimensioni Del suo pene Quindi aveva questa Diciamo sviluppato Una profonda insicurezza Su questo punto Quindi subito dopo L'ho fatta inginocchiare Ho sparato un colpo Di pistola alla testa Poi l'ho lasciata lì E sono andato via Quindi al di là Della spalla spogliare nuda Lui non ha un contatto Sessuale con questa ragazza La seconda La Zubskova Quella volta L'avevo prelevata Nel rettilineo del Benga Con la solita Offerta di un milione Per un rapporto in casa L'ho portata in un posto Dietro l'ospedale Di Pietraligure Anche qui Una località Che avevo scelto E per lo strato prima Ho fatto scendere La donna L'ho fatta girare Inginocchiare E poi ho sparato Un colpo La dinamica È sempre questa Gorni Chiaramente lo uccide Il cambio a valuta Perché ha bisogno di soldi Per cui Deve chiaramente Andare Andare lì Walillo e Randòi Due metronotte Sono in qualche modo Delle vittime collaterali Perché Arrivano Capiscono che c'è qualcosa Che non va Si in qualche modo Si intromettono Nell'omicidio Che lui voleva commettere Ma i danni Della transessuale Lorena Castro E purtroppo Loro due insomma Ci rimettono la pelle Mentre Lorena Riesce a sopravvivere Tessia dopo L'altra prostituta La racconta così Ho prelevato la ragazza Che si prostituiva Alla foce di Genova Le ho fatto la solita offerta Di un milione Per un rapporto in casa Ho portato la donna Poi in una piazzola A Cogoleto Luogo che avevo in precedenza Visto e studiato Come possibile Da utilizzare Per un delitto Quindi vedete Che c'era la parte Di pianificazione Assolutamente preservata Nella parte iniziale Della serie Prima abbiamo avuto Un rapporto sessuale Con penetrazione vaginale Non protetto Secondo quanto Emerso dagli accertamenti autoptici Poi l'ho trascinata fuori L'unica volta Che ha un rapporto sessuale Poi l'ho trascinata fuori Dall'auto Con la forza E lei ha reagito Tentando di scappare E' partito un primo colpo Lei si è accasciata Poi l'ho colpita Con altri due colpi Alla testa E sono andato via L'esecuzione però Alla fine E' sempre la stessa Sulla Ciminiello C'è un problema Perché in realtà Sulla Diciamo la La signora Che è la prostituta Che dice Mi ha risparmiato Mi ha rapinato Ma poi Se è andato via In realtà La Luisa Ciminiello Farà la denuncia Quindi agli atti risulta Ma in realtà Lui non parlerà mai Di questa vicenda qui Cioè Sulla Sulla Ciminiello Lui non Non farà mai Nessuna affermazione Ok Quindi questa vicenda qui Della Ciminiello Lui non la riferisce Racconta l'omicidio Della prima donna in treno Così Ho preso a Genova L'intersidio In direzione Venezia Poco dopo Ho notato una donna Nello scompartimento Di prima classe Non la conoscevo Poco dopo Si è diretta alla toaletta E ho visto Che aveva portato La borsa con sé Ho aspettato pochi secondi Poi ho aperto La porta del bagno Con una chiave tripla Che avevo portato con me Quindi comunque Perché uno deve avere Una chiave tripla con sé No? Quindi comunque La progettazione Anche qui c'è Anche se sono omicidi Commessi in maniera Apparentemente Molto più rischiosa Degli altri Perché qui Sei in treno Ci possono essere altre persone Non è che il treno Si ferma dove vuoi tu Ok Le ho messo sulla testa La giacca che aveva Appoggiato lì vicino Le ho sparato un colpo in testa Ho ripreso poi la borsa L'ho rimessa nello scompartimento Prelevando solo il biglietto Del treno Perché io non ce l'avevo Sono scesa a Voghera Lo scompartimento del treno Era vuoto Sono salito sul treno Con l'intenzione di uccidere Di uccidere una donna La vittima doveva essere una donna Anche se non l'ho nemmeno Toccata dal punto di vista sessuale Faceva tutto Parte del programma Che è scattato in me Dopo il delitto Centanaro Parenti Non so dire di più Poi uccide la Mema Valbona Anche qui Con modalità molto simili A Stella Truia E poi uccide La seconda donna Sui treni Vediamo come la racconta Quella sera Ero andato al casino Di Sanremo Ho giocato E ho perso Allora ho raggiunto La vicina stazione ferroviaria E sono salito sul treno Per 20 mila Nell'ultimo scompartimento Della prima carrozza C'era del personale Delle ferrovie Io ero nel corridoio Della seconda carrozza Ho visto una donna All'interno dello scompartimento E ho provato L'impulso di uccidere Dopo poco La donna è entrata nel bagno Che si trovava poco distante Da dove ero io Ho preso Pochi momenti Ho atteso pochi momenti Poi sono entrato Con la solita chiave Una volta dentro Ho preso la giacca Della donna Che era appesa lì Vicino Gliela ho messa sulla testa Ho sparato Poi mi sono chiuso dentro E mi sono masturbato Ricordo che indossavo Un indumento intimo Di colore scuro Sono sceso dal treno A Bordighera Ma ho usato La porta sbagliata Quella che dà sul binaglio Questa manovra Ha azionato Un dispositivo sonoro Che ha richiamato L'attenzione dei ferrovieri Della prima carrozza Mi hanno chiesto Dove andavo E io ho risposto Che abitavo da quelle parti Ho preso quindi Un taxi alla stazione Usando la precauzione Di aprire la portiera Con le nocche delle dita Ho chiesto al tassista Se mi portava a Sanremo E ho tentato Di alterare la voce A Sanremo avevo lasciato Il Mercedes Che ancora ce l'avevo Ok Quindi c'erano un po' Queste situazioni Quelle situazioni lì Quindi Mileto È chiaramente una Il benzinaio È un omicidio Motivato dalla rapina È interessante Come descrive L'omicidio Di Centanaro Ve la leggo un attimo Perché effettivamente Insomma È l'omicidio Che effettivamente Torna meno Perché lui dice Di aver fatto una serie di cose Di averlo spaventato a morte Che lui sia morto Per la paura Di quello che Gli stava facendo Insomma Gli avrebbe fatto bilancia In realtà Ripeto Quell'aspetto lì Non ha mai trovato riscontro Anche dal punto di vista complessivo Però lui se l'è attribuito E di conseguenza Non Diciamo Non Non ci sono Diciamo Particolari dubbi Il fatto che Solo sia attribuito lui È stato dato per Diciamo scontato Fosse La verità In realtà Qualche aspetto Che diciamo Secondo me Potrebbe non essere così Cioè Che lui volesse ucciderlo Ma non abbia avuto il tempo E questa cosa L'abbia portato Ad attribuirsi L'omicidio Ci sta Per un discorso Proprio di rivendicazione Per quanto riguarda Invece Maurizio Parenti E la moglie Così dice Conoscevo bene anche loro Parenti Era sempre scortato Da qualche sera Lo aspettavo Nei pressi Della sua abitazione Ha parcheggiato La macchina in garage Bla 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 Avevo in mano Un sacchetto di plastica Di cui Avevo messo Del nastro adesivo Due da pacchi Gli ho detto L'ho avvicinato E gli ho detto Indicando il sacchetto Che dovevo fargli vedere qualcosa Siamo entrati Nel portoncino Del suo palazzo Appena chiuso Gli ho portato la pistola E l'ho ammanettato Gli ho messo anche Un giro di nastro adesivo Come il bavaglio E gli ho detto Di non reagire Perché alcuni Del miei compari Erano già Nella sua abitazione Ecco questo è un aspetto Abbastanza interessante Perché In realtà Nell'approfondimento Del caso Che lui possa aver fatto Tutto da solo Nel caso dell'omicidio Scotto Parenti Francamente Qualcuno aveva Qualche perplessità Compreso il fratello Di Maurizio Perché Maurizio Parenti Era un uomo Molto corpolento Molto alto Circa due metri Corpolento Estremamente Muscoloso Persona Fisicamente Molto prestante Mentre Bilancia Era comunque Un uomo Circa un metro e sessanta Certamente Non in buona forma fisica Insomma Si fa un po' fatica Anche se Parenti Era sotto minaccia Di un'arma Obiettivamente Si fa un po' fatica A pensare Che Parenti Davanti al solo Bilancia Non abbia tentato Una reazione Considerando anche Che Parenti Insomma Non è che avesse Tutta sta simpatia Per Bilancia Quindi Quello che racconta Per carità È quello che racconta lui Però Qualche dubbio Sul fatto che Almeno questa volta Ci fosse qualcun altro Con lui Diciamo che più di qualcuno L'ha conservato Questo dubbio Perché La vicenda processuale Su qualche elemento Effettivamente Forse non è stata Poi così precisa Però Di fatto Lui si è attribuito L'omicidio in solitudine E come tale Gli è stato attribuito Gli ho messo Gli ho messo Anche un giro Di nastro adesivo Come bavaglio Gli ho detto Di non reagire Perché alcuni Mie compagni Erano già Nella sua abitazione Che tenevano a bada Sua moglie Siamo saliti In ascensore Giunti davanti Alla porta Dell'abitazione Gli ho sfilato Le chiavi Che erano nel giubbotto Entrati a casa A sinistra C'era la camera Da letto Dove sua moglie dormiva Siamo entrati In cucina Gli ho chiesto Di darmi il denaro E lui mi ha detto Che era in cassaforte Al piano di sopra Nel frattempo È arrivata sua moglie E sotto la minaccia Della pistola Mi sono fatto dare La combinazione Gli ho fatti sedere Sul divano Ho aperto la cassaforte Ho prelevato Una scatoletta Che conteneva Alcuni orologi Rolex Poi siamo scesi In camera da letto Gli ho detto Cosa pensavo di lui Vedi la parte Della vendetta L'aspetto narcisistico Che come mi hai umiliato E quindi la devi pagare Poi siamo scesi In camera da letto Gli ho detto Cosa pensavo di lui L'ho anche colpita La mascella Col calcio dalla pistola Poi ho sparato un colpo in testa Usando il copriletto Come silenziatore A lei ho sparato al petto Prima le avevo legate Le gambe E le braccia con il nastro Bilancia poi Nel tardo prigio Del 29 ottobre Del 97 Si va Insomma Va all'obitorio A salutare A dare l'ultimo saluto A Maurizio Parenti Non è così infrequente Ragazzi Mi sono trovata spesso Quando ci abbiamo a che fare Con narcisisti gravi Ad esempio Nel caso Ricorderete Di Trifone e Teresa Ebbene ruotolo Addirittura fu uno di quelli Condannato per omicidio In via definitiva Fu uno di quelli Che portò la bara Di Trifone Quindi questo aspetto Narcisistico di Vengo a celebrare La tua morte Provo perché Te l'ho data io E finalmente Posso dire Di essere superiore a te Di averla avuta vinta Su di te È un aspetto È un aspetto che Da punto di San narcisistico Torna molto Nelle strutture Di questo tipo Di personalità Ok Alla fine Viene catturato E una volta catturato Devo dire che lui Racconta tutto Lui collabora Durante la perizia Psichiatrica Collabora Durante Gli interrogatori Anche se la parte Legata al perché Cioè al movente Che poi Crea un po' Una sorta di filo rosso Che unisce Le varie Le varie aggressioni Non sembra avere Una grande capacità Di leggersi dentro Di insight Come si dice tecnicamente Quindi lui ti fornisce Una descrizione precisa Di quello che ha fatto E diciamo che In larga parte Trova poi riscontro Anche dal punto di vista Criminalistico E medico legale Ma non riesce A spingersi oltre Cioè non riesce A leggere dentro di sé Quelle che sono Le reali Motivazioni che lo portano A mettere in campo Una serie di delitti Peraltro così eterogenea Perché qui abbiamo Un po' di tutto C'è la parte Di tipo Diciamo strumentale Per ottenere denaro C'è una parte Di tipo Psicopatologico C'è il potere Sulle donne E la voglia Di uccidere la donna In quanto donna Fondamentalmente Perché è fonte Evidentemente Di umiliazione Fonte di angoscia E quant'altro E poi c'è tutta una parte Legata proprio A un meccanismo Di matrice criminale Fondamentalmente Legata alle rapine Quindi è un caso Veramente molto particolare È un po' fuori Ruben Da quelle che è Le categorie Che siamo abituati A considerare Sotto questo aspetto Sì È un po' fuori Ma per alcuni versi È anche Ecco Questo bisogno Di protagonismo Per esempio Io ricordo poi La famosa intervista Nel 2004 A domenica in Paolo Bonolis In cui appunto Diceva che C'erano dei complici Cercava Insomma Comunque In qualche modo Ed è tipico Dei soggetti La cavalcò All'epoca Perché cercare Di far tornare A parlare di sé Sono d'accordo Sì E quello volevo dire Che praticamente Questi soggetti Quando non possono Più uccidere Cercano un modo O con le confessioni Arrate O nel suo caso Visto che aveva Confessato tutti Gli omicidi Cercando di inserire Dei nuovi particolari Ma Per cercare Di riprendere Il controllo Che comunque Una volta che sei in carcere Ti viene sottratto Certo E lui In quello cavalcò Quello che è sempre stato Un po' il sospetto Di tutti noi Cioè che effettivamente Avesse avuto Almeno per l'omicidio Scolto Parenti Un complice con lui Insomma Quindi lui cavalcò Poi quelli che erano Dei dubbi Che erano emersi Sia durante l'inchiesta Che poi durante Il processo Perché ovviamente Cercava comunque Di nuovamente De stare attenzione Sul caso E quindi su di lui Fondamentalmente Prima ho letto Scorrendo Adesso non ricordo chi Un post Di un nostro Del nostro ascoltatore Che dice Secondo me Alla fine Il bilancio Effettivamente si era pentito Io ho qualche dubbio Che Che questo possa essere Accaduto Io ne ho più di Più di uno Di dubbio Dopo più di vent'anni Di professione Il mio cinismo Forse prende un po' Presa un po' più Campo Non lo nascondo Però faccio molta fatica A pensare Che una struttura Di personalità Così deficitaria Così organizzata Intorno a temi narcisistici Così cristallizzata Proprio anche Su questa Autocelebrazione E questa totale Assenza di empatia Per gli altri Possa aver maturato Un percorso Interno al carcere Che lo porta A riconoscere La gravità Di quello che ha fatto Su francamente Non credo che Credo che fosse Una nuova modalità Un'ultima modalità Per far parlare Di sé Un'ultima volta Sì anche il fatto Che abbia preso parte Alle attività teatrali Negli ultimi anni Che quindi si era Diciamo in qualche modo Ingraziato Tutti gli altri attori Che facevano parte Della compagnia teatrale Del carcere Cioè questa è una Caratteristica tipica Di questi soggetti Una volta che vengono Che vengono praticamente Privati del potere Dell'omicidio Cercano qualche altro Mezzo comunque Per acquistare il controllo E siccome non sono stupidi Sanno che per Eventualmente uscire O avere sconti di pena Eccetera Devono farsi vedere Con la faccia Dell'agnellino Per cui io Io tenderei a escludere Categoricamente Un pentimento Di un soggetto del genere Anche perché Quando le frustrazioni E le umiliazioni Sono così radicate Nella psiche di una persona Non è che con un po' Di terapia in carcere Si può smontare La prossima settimana Parleremo di Luigi Chiatti Che io anche È uno di quelli Che ho visto Al carcere di Prato Per sei mesi E quando sono andato A parlare con Chiatti Era il 2007 Lui mi ha detto Candidamente Che era un anno e mezzo Che nessuno psicologo Si faceva vivo Cioè che trattamento Che terapia vuoi fare Con queste condizioni Comunque per rispondere A una nostra amica Che chiede È morto il 17 dicembre 2020 Nel carcere di Padova Quindi è morto È morto appunto Per covid Per covid Complicazioni legate al covid Esattamente Sì Ha una personalità Come Izzo Non la definirei Cioè per quanto Avesse questa mania Di protagonismo Questo desiderio smodato Di attirare l'attenzione Su di sé Blablabla Questo è un po' Diciamo un po' La cifra Dei narcisisti gravi Izzo ha un aspetto Ancora più istrionico Izzo è ancora più Se vogliamo Disturbato Rispetto a questo piano Cioè lui Izzo è proprio uno Che esonda Che ha bisogno sempre Di avere l'attenzione Su di sé In maniera compulsiva Che non ce la fa proprio A non far parlare di sé È una cosa che Mi mancare proprio l'aria Per cui Si continua a fare Affermazioni incredibili Recentemente ha dato Tutta una serie Di indicazioni Sull'omicidio Della Corazin Sostenendo di essere Di aver partecipato A un rito satanico Insieme a Narducci Che sarebbe uno Dei soggetti Che venne sospettato Per anni Di essere il mandante Nel caso del mosso Di Firenze Dicendo che appunto Questa ragazza Che non è Diciamo In questo caso Ancora insoluto Sia stata uccisa Durante un rito satanico Compiuto all'interno Della villa di Narducci Sul Trasimeno Quindi cioè Per dirvi quanto è Un soggetto che Proprio mitomanico In questo Bilancia non ce l'ha Quella componente lì Cioè Sicuramente ricerca Attenzione su di sé Sicuramente Per questo manipola Ma la condizione mitomanica Cioè di raccontare Proprio balle colossali Scenari totalmente realistici Pur di avere attenzione Questa componente Non ce l'aveva Così così forte Lui era totalmente Primo di empatia E aveva un odio profondo Per le figure femminili Questo sì Tant'è vero Che non era mai riuscito A costruirsi una vita Di relazione E comunque E comunque è uscito Di scena Bilancia Anche lì Cercando di avere L'ultima parola Perché pare che abbia Rifiutato le cure Per il covid Dicendo così Almeno tolgo il disturbo E mi tolgo di mezzo Quindi comunque Il bisogno di protagonismo È arrivato fino all'ultimo Insomma Di decidere Come morire Con le sue mani Assolutamente Era forse Il suo modo Per almeno Decidere quella parte Della sua vita Cioè alla fine Uga Paola Guarda Io La storia della Ciminiello L'ho sempre trovata Un po' Discutibile Cioè mi sembra Molto strano Che un soggetto Che comunque Addirittura si è attribuito Un omicidio Che forse Potrebbe non aver commesso Cioè a quello di Centanaro No? Astrettamente Non racconti nulla Su questa tentata rapina A questa A questa signora Ciminiello A questa A questa signora Che faceva la prostituta Non so Mi sembra Mi sembra molto strana Questa cosa Lui non ne ha mai Parlato Mai Non ha mai Riferito una sillaba Su questa presunta aggressione E lei che racconta Che Voleva ucciderla Poi vede la foto Di questo bambino Lei chiaramente Si aggrappa Questa cosa Dice guarda che se no Lui rimarrà da sole Lui a questo punto Se ne sarebbe andato Ma lui Non ha mai parlato Ma Comunque perdonami Roberta Proprio in 30 secondi Chiariamolo questo concetto Perché io vedo Che spesso ci Si fa confusione Allora Anche il serial killer Più efferato Non è serial killer H24 Può avere dei momenti E delle scelte Cioè il serial killer Non uccide Tutte le persone Che incontra Oppure può anche partire Con l'idea di uccidere Ma succede un caso Come in questo caso Prendiamo per buono Che abbia visto La foto del bambino E abbia deciso Di spermiare la donna Non vuol dire Che era capace di pentirsi Vuol dire solo Che in quel momento Ci può essere stato Un particolare Che lo ha fatto desistere Ma non è che La struttura di personalità È orientata al pentimento Cioè si fa spesso Questa confusione Di prendere un singolo Episodio E pensare che la persona Sia recuperabile Che è un cliché Un classico Del trattamento La pecorella smarita Un soggetto come bilancia Secondo me Che categoricamente Non era recuperabile Che poi Non ha ucciso Tutte le persone Che ha incontrato E può aver cambiato idea Per una volta Ma questo Non c'entra niente Col fatto che non fosse Completamente perso Cioè soggetti del genere Non sono trattabili Non sono recuperabili Fondamentalmente Questo è il quadro Nel senso Infatti diagnosticarono Un grevissimo disturbo Della personalità E tipo narcisistico Non credo neanche Che abbia mai fatto percorsi Non credo che neanche Fosse interessato a farne Fondamentalmente Insomma Questo è un soggetto Che aveva una storia Di vita Che l'ha portato A sviluppare Questo disturbo Da personalità Che poi si manifestava In tutta una serie Di aspetti della sua vita Tant'è che non ha mai Avuto una vita di relazione Qualitativa Adeguata Non è mai uscito A stabilire relazioni intime Ha sempre gravitato Intorno al mondo Della criminalità organizzata Anche se di piccolo cabotaggio E a un certo punto Probabilmente Quando ha iniziato a uccidere Quel potere Che ha provato Lo ha poi trasportato Via via Giorno dopo giorno In quella condizione finale Che poi A quel punto La parte più distruttiva Di sé Ha avuto ampio sfogo Fondamentalmente In un'età In cui È anche abbastanza anomalo Che un soggetto Possa fare il suo esordio Nell'ambito della serialità Perché parliamo di un soggetto Che nel 98 Nel 97 Anzi A ottobre C'ha 46 anni Perché del 50 Però diciamo Che quando si tratta I serial killer Non spinti dalla sessualità Come movente primario Può succedere Invece Quando ci sono I serial killer Sadici Necrofili Che appunto Hanno come spinta primaria La sessualità Generalmente L'età media Di inizio È più precoce Tra i 20 No no Chiatti non è Non è più in galera Chiatti è una Rams No Io parlo del 2007 L'ho visitato nel 2007 Diciamo Adesso non è più Non è più in galera È una Rams Ok All'epoca Quando l'ha incontrato Ruben Era lì Sì Ma Adesso è una Rams Una Rams È in Sardegna È in Sardegna A Capocotta Mi pare si chiama Capoterra Se non mi ricordo Mi sembra Capoterra Capoterra Sì Una sorta di spartiacomo Nella sua vita Questo non abbiamo Insomma Non faccio fatica a pensare Che sia così Cioè nel senso che Obiettivamente Quel momento Cioè la perdita del fratello Che era un po' L'unica figura affettiva Per lui Perché l'unico legame significativo Ce l'aveva con Michele Non parla di altre figure Non parla di altre figure Nella sua vita Parla del fratello Ecco lì la sua La discesa agli inferi Comincia abbastanza rapidamente Perché lì Non ha più nessuno Fondamentalmente E quindi la sua personalità Si disgrega sempre di più Si sgretola sempre di più Fondamentalmente Allora La differenza Tra uno psicopatico criminale Una persona normale Che lo psicopatico Accetta di compiere il male L'altro lo sogno Lo immagina E' un po' Quello che era L'impostazione Diciamo I buoni I cattivi lo fanno I buoni lo sognano Come era quel libro Di Sì Ricordo I tanti anni fa Di Simon Di Simon Sì Buoni lo sognano I cattivi lo fanno Eh Guarda Ciascuno di noi Chiaramente Ha dentro di sé Dei pensieri Anche negativi Ciascuno di noi Nella vita Almeno una volta Voglio essere generosa Ha pensato Di fare seriamente Il male a qualcuno Poi si è Fermato Perché il suo io E' sufficientemente Strutturato Per far sì che Quella pulsione Per quanto distruttiva Per quanto importante Si possa contenere Magari organizzandosi In pensieri Di vendette In pensieri Così Insomma che Piano piano Fanno sì che Quell'angoscia distruttiva Si dissolva Rimanendo In maniera Intrapsichica Alcuni di noi Questo freno a mano Interiore Non ce l'hanno Questo tipo di soggetti Non ce l'hanno Oppure Alcuni pensieri Possono essere Canalizzati Sotto forma artistica Per esempio Quindi una forma Mediata Per esempio Io posso scrivere Un romanzo In cui Stupro e uccido Decine di donne E sfogo I miei impulsi Senza compie Reazioni Malvagie C'è un Un artista Che ho Diciamo Con cui ho Mi sono interfacciato Nel 2006 Quando ho scritto Omicida artista Trevor Brown Che era un soggetto Con forti inclinazioni Pedofile Un inglese Che è andato a vivere In Giappone Perché in Giappone Praticamente Vige Un regime particolare Per cui sei accusato Di pedofilia Solo se molesti Effettivamente un bambino Però puoi fare Quadri Disegni E lui è un artista Rinomato Famoso da più di 20 anni Disegnando Quadri Con bambine Impiccate Con le matite Nelle orecchie Violentate Fatte a pezzi Ed è assolutamente Legale in Giappone Ed ha Diciamo Come dire Spostato Le sue pulsioni Sotto forma artistica Però se non altro Le ha trasferite Su un piano Socialmente accettabile Cioè sono fantasie Che a limite Diventano dipinti Esatto Comunque Una capacità Il suo io Di dirigere Poi Per quanto fossero Fantasie Pulsioni distruttive Abberranti Perverse No? Parafiliche Le ha spostate Però su un piano Che fosse Accettabile Per fortuna Insomma è riuscito A fare questo passaggio Chissà però quante volte Sarà stato tentato Di non limitarsi A questo Probabilmente Certo Però ci è riuscito A contenere Quegli aspetti No? Ma non tutti Hanno gli strumenti Cognitivi Appunto E la capacità E la forza Per fare questo passaggio Quando lui dice Salgo sui treni L'obiettivo È di uccidere una donna Qualunque donna Cioè lì è proprio Veramente essere Nel posto sbagliato Nel momento sbagliato All'epoca in Liguria C'era la psicosi La psicosi Regata A viaggiare in treno Cioè era una cosa Era diventato Veramente un incubo Per cui Effettivamente Ripeto Lui Quell'aspetto lì Quella Dimensione interiore Che lo spinge A fare male Cioè lui Se la portava dentro C'era c'era Anche le prostitute Non è che avesse Un motivo per ucciderne Una piuttosto che un'altra Ne sceglieva Di etnie diverse Perché In maniera Pragmatica Aveva cercato Di Depistare Inscenando Una potenziale Guerra tra bande No? Dal momento che Effettivamente Poteva essere Uno scenario Verosimile E al momento Per diversi mesi Lo fu Che ci fosse Una sorta di scontro Per la gestione Del territorio Da parte Di bande Rivali Quindi Si è mosso Anche in maniera Molto Subdolaria E estremamente Efficace Inizialmente Comunque È interessante Fare un'ultima Riflessione Su bilancia Almeno quella Viene a mente A me Sul ruolo Dei mass media Su come a volte La scelta Dei soprannomi È fuorviante È vero Il bilancia Ha avuto Tanti soprannomi Ma quello Più che ha colpito L'immaginario A un certo punto I giornali Parlavano solo Del killer Dei treni E se vogliamo Invece Cioè Se noi pensiamo Bilancia ha commesso Solo due Dei 17 omicidi Su un treno E in realtà Aveva ucciso Molte più prostitute Rispetto a donne Cosiddette Normali Però L'omicidio Di una prostituta Poi non tira Più di tanto Da un punto Di vista giornalistico Mentre Titolare Il killer Dei treni E quindi Cavalcare L'onda Della psicosi Collettiva Tira di più Questa è una cosa Che ci deve far riflettere Perché a volte I soprannomi Sono fuorvianti Anche perché Le due donne Uccise Uccise sul treno Erano due donne Normali A differenza Per ragazze Che hanno fatto Una fine terribile Indubbiamente Però erano Comunque In qualche modo Considerate Ad alto rischio Quindi c'era Poca identificazione Collettiva Sulla figura Della prostituta Normalmente Quando i killer Si concentrano Sulle prostitute Non è la morte Della prostituta Purtroppo A generare Attenzione Ma è la morte Ma è il fatto Che ci sia Un seriale Come è successo A Roma Recentemente Se badate bene Il fatto Che siano morte Tre persone Che si dedicavano Alla prostituzione Era un elemento Secondario Rispetto al fatto Che ci fosse Un predatore Seriale In azione La notizia era Serial killer A Roma Non tre donne Barbaramente assassinate Ma un serial killer A Roma Quindi quando sono Le prostitute A morire L'attenzione Mediatica È molto più Sul potenziale Autore Che non Sulla vittima Sui treni Morivano Due donne Normali Perché una Era un infermiera Un'altra Una colfa Un visitere E quant'altro Due donne Dalla vita Irreprensibile E' chiaro Che quell'aspetto Lì colpì Tantissimo Molto più Che paradossalmente L'omicidio Delle altre prostitute Perché chiaramente La maggior parte Delle famiglie Liguri Era preoccupata Della idea Che le figlie Andassero in treno Per questo motivo Quindi ci fu una Psicosi collettiva Proprio sul discorso C'erano i treni Vuoti Completamente vuoti Cioè ragazze in treno Non ne trovavi più E quelle che erano Costrette a farlo Si erano portate Dietro di tutto Per cercare di difendersi Quindi è chiaro Che quell'aspetto Lì sì A livello mediatico Funzionava molto Il killer dei treni In realtà Solo due Dei 17 omicidi Sono stati commessi in treno Assolutamente corretto Bene ragazzi Direi che Anche per questa sera È stato un viaggio Nella mente Il serial killer Abbastanza interessante Che dite? Fateci sapere Se vi piace Questo tipo di Argomentazioni E di questo tipo di tema Dateci qualche feedback Sì faremo anche Stevanine Tranquilli Assolutamente sì La prossima volta Andiamo proprio Sulla parte Dei Insomma Dei killer pedofili Insomma Che è un aspetto Certamente Molto inquietante Ma Un tema da affrontare In maniera seria Molto Molto importante Insomma Sono diversi profili Ok Bene allora Buona serata amici Grazie sempre Ruben Ci vediamo mercoledì Allora ricordatevi Grazie a te